Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Conad, persone oltre le cose. È sempre più prossima alla risoluzione la vicenda della strada provinciale 360 che all'incirca sei mesi fa è stata interessata da una frana e che da allora ha reso impossibile il transito di veicoli determinando grandi disagi per gli abitanti della popolosa località di Sant'Anna. Infatti, nella giornata di domani, venerdì 4 agosto, sarà finalmente ufficializzato il nome dell'impresa che si aggiudicherà ai lavori di ripristino della carreggiata in seguito al sorteggio pubblico che ha riguardato gli operatori economici iscritti all'albo telematico dei lavori della provincia. A fare un resoconto della vicenda, senza lesinare bacchettate all'amministrazione Servalli, il consigliere di opposizione Vincenzo Lamberti che in questi mesi si è battuto fortemente su tale fronte al fine di adottare efficienti misure risolutive. È stata una battaglia grande, forte, che è iniziata fin dal giorno del cedimento della strada che in realtà era iniziata già prima perché le sollecitazioni per far mettere in sicurezza quel tratto di strada provinciale partono da dicembre 2015, non è che partono da febbraio 2017. Però voglio dire, in seguito al cedimento, c'è stata una battaglia quotidiana per far sì che questo problema fosse risolto al più presto. Ci sono stati incontri, riunioni, sopralluoghi, manifestazioni, sitini in provincia, pullman organizzati, eccetera, eccetera. C'è stato un impegno forte, quotidiano, da parte del sottoscritto, da parte della comunità di Sant'Anna che è la prima ad essere penalizzata delle attività commerciali. Certamente, e non voglio soffermarmi su qualche battuta poco, come dire, felice o di esternazione di un protagonismo che in effetti non c'è, come è avvenuto qualche giorno fa in Consiglio Comunale da parte del primo cittadino che addirittura dice se il 4 agosto si apre la strada, un solo nome e cognome è Enzo Serval. Allora, il buon sindaco Enzo Serval, se avesse avuto capacità e determinazione nell'affrontare questa problematica e avesse compreso seriamente e veramente il disagio enorme che stiamo vivendo da sei mesi avrebbe con il suo ruolo, con la sua funzione politica, non solo di sindaco della città ma di consigliere provinciale delegata ai lavori pubblici, ascoltato di più il territorio e soprattutto nel giro di un mese, quindi a marzo, ad aprile e non certo arrivare a maggio o a giugno avrebbe fatto comprendere ai tecnici della provincia che una soluzione per aprire la strada provvisoriamente c'era è stata supportata anche da progetti, sono state tante le proposte che in questi mesi fin da febbraio sono state fatte è vero, sì, siamo contenti che ad agosto la gara sarà espletata, che a settembre probabilmente, speriamo a settembre inizieranno i lavori però intanto questi sei mesi, sette mesi di disagi enormi che solo chi ha vissuto può comprendere non certo chi sta al centro di cava oppure seduto comodamente sulle poltrone solo chi ha sofferto in questi mesi lo può comprendere